questa sera vi spiego la signora vulva e vagina guardate questo facsimile all'uncinetto fatto molto bene intorno abbiamo queste viola le grandi labbra d'accordo questa parte più grande che quella che poi contiene il resto dentro questa parte gialla sono le labbra interne o piccole labbra questo qui è il buchino della pipì che non si vede quasi o adesso che cosa troviamo qua questa cosa qui questo non è altro che il glande che copre il clitoride che è un piccolo puntino vedete questo puntino verde allora voi sapete che gli orgasmi sono tutti clitoridei dice ma perché sono clitoridei se io inserisco il pene qui nella vagina come fa a essere clitorideo ve lo faccio vedere guarda un po sfido il clitoride guardate che cosa mi rimane rimane questa strana cosa questo è il clitoride che noi siamo abituati a vedere a sentire piccolino no e queste sono le terminazioni guardate come sono lunghe le terminazioni nervose del clitoride quindi quando saremo stimolate anche lo rimetto a posto anche qui che c'è la vagina andremo a toccare vedete i punti nevralgici del clitoride che pensiamo stia qua su ci tenevo a farvelo vedere specialmente per i maschietti perché pensano le misure devo fare forte forte ma che voi dovete stimolare qui ragazzi dovete stimolare qui poi stimolando qui non è escluso che ci sia comunque un orgasmo è un godimento spero che vi sia stato di aiuto ciao grazie